Campania Tube, siamo da Pelle d'Oca, da Tripalda. Signora, come stanno andando le vendite prenatalizie? Le dico la verità, non bene. Con fronte agli anni passati non si parla con niente. Non dico che non si parla con niente, ma quasi. La crisi si sta facendo sentire? Avete promosso qualche iniziativa? Il 17 e il 18 abbiamo fatto un'iniziativa con tutti i negozianti, siamo organizzati. È riuscita l'iniziativa per quanto riguarda la giornata, ma per noi negozianti non è andata benissimo. La crisi si fa sentire, o meglio, siamo molto condizionali da quello che viene detto, siamo martellati da quello che viene detto in televisione. Lei come trascorrerà il Natale? Con i miei genitori. Un augurio a tutti gli amici di Campania Tube, da Pelle d'Oca. Un buon Natale, speriamo che la crisi l'anno prossimo sia passata per tutti, veramente, perché altrimenti non si può andare avanti. Grazie e buonasera.